La Coppa delle Mille Miglia, la più appassionante corsa automobilistica sulle strade di Mezza Italia, ha avuto un successo senza precedenti. Ben 141 macchine, dai volidi di grande cilindrata alle minuscole topolino di serie, hanno preso il via per la vertiginosa competizione. Le partenze iniziate si nel cuore della notte si sono protratte fino all'alba. La Coppa delle Mille Miglia Il controllo di Roma già tutti i primati della corsa erano stati battuti ed era facile supporre che questa situazione si sarebbe mantenuta fino al termine. Dopo una gara brillantissima vinceva la coppia Biondetti-Stefani su Alfa Romeo, alla media di oltre 135 km orari. E-Miche di Mille Miglia